Purtroppo ci troviamo adesso nella situazione in cui la Regione Calabria andrà al voto, insomma di nuovo esprimo davvero la mia solidarietà totale, ma insomma anche il dolore per la perdita della Presidente Santelli. Oggi è chiaro che la Calabria non si era ancora adeguata ed è chiamata con l'ultimo Consiglio regionale a poter eventualmente correggere, io auspico che questo accada perché così come siamo intervenuti sulla Puglia a fronte di una negligenza di fatto del Consiglio regionale pugliese che non aveva adeguato come sarebbe stato previsto la legge regionale con la doppia preferenza di genere, io davvero invito il Consiglio regionale della Calabria a procedere in questa direzione, è evidente che se questo non dovesse accadere come governo in modo analogo come siamo intervenuti sulla Puglia dovremmo valutare proprio lo stesso intervento sulla Calabria. Io credo che proprio anche per la storia della Calabria, per quello che è accaduto, il tema femminile sia un tema che va posto con urgenza e con importanza e quindi davvero auspico che tutte le forze politiche vadano in questa direzione e che quindi la doppia preferenza di genere venga introdotto in Calabria prima del prossimo voto. E' ottimista? Sono ottimista, dopodiché abbiamo avuto il coraggio di affermare un principio in virtù di un tema costituzionale con un potere sostitutivo nel caso della Puglia, altrettanto mi assumerò la responsabilità nei confronti della Calabria. Mi auguro di non farlo proprio per quel livello di cooperazione tra i livelli istituzionali perché credo che la parità di genere debba essere un impegno di tutte le istituzioni nel nostro Paese. Grazie a tutti.